Non voglio farle complimenti, se no sembra che ce la cantiamo e ce la sogniamo ogni volta. Però io credo che, glielo dissi anche dopo l'Olimpico, anche quello di stasera sia un punto preziosissimo. Perché dopo 40 minuti un Napoli sotto, in difficoltà, la pressione del pubblico sembrava un momento surreale, tosto. Grande reazione, pareggio, secondo tempo, solo Napoli contro la capolista. Anche se poi conta di tutto il contrario qua, però ci sta e non voglio nemmeno un suo commento. Però secondo me questo, dopo quattro pareggi in un momento dove il Napoli non è brillantissimo, siamo lì a sei punti dalla Juve e ce la giochiamo. In più, ha detto tutto bene anche lei, come la vedo io, in più vorrei aggiungere che la Juventus è al completo. Una Juventus che sta dominando in Europa, una squadra che fa man bassa di risultati ovunque. Ha vinto col Chelsea, ha vinto con Celtic, è fuori caldo. Ecco, questo dà grande merito a quello che hanno fatto i miei giocatori. Se il segnale del 2-1 non avrebbe rubato nulla assolutamente. Come avrebbe meritato? Perché l'occasione di Zemaili, clamorosa, più di quella, uno a porta vuota ti va fuori la palla, solo da mettere dentro. Vuol dire che è un momento in cui ci gira tutto storto. Però, ha detto bene lei nel dire che abbiamo messo sotto la prima classifica una super squadra che era al completo dopo tanto tempo, che aveva avuto un giorno in più anche per preparare questa partita. Quindi aveva tanti vantaggi rispetto a noi.